Ciao a tutti, mi chiamo Giuseppe Patanè e presento questo progetto dal nome non proprio accattivante. Ci siamo posti il problema che nelle cloud storage attuali i dati degli utenti vengono salvati in chiaro. E' un problema per gli utenti che vogliono evitare la catalogazione, l'indicizzazione e l'uso dei propri dati personali e vogliono evitare che altre aziende possano capirne le informazioni. L'altro aspetto interessante che vogliamo risolvere è che questa problematica porta gli utenti a considerare il fornitore di cloud uno sfruttatore di dati altrui e non solo, a chi fornisce il servizio poter potenziare i problemi legali, in quanto se il materiale contenuto è salvato sulla cloud e materiale ad esempio pedopornografico è corresponsabile per la legge italiana del reato. Abbiamo pensato a una tecnologia nuova che presi i file degli utenti li scomponga in tanti pezzettini, li crittografi con la chiave definita dall'utente e li immagazzini nei nodi della cloud in modo tale però che solo il software che sta sulla macchina dell'utente possa sapere dove sono state immagazzinate. Quindi quando vorrà ricostruire l'informazione il software si occuperà di riprendere i dati dalla cloud, decifrarli, riassemblarli e renderli disponibili all'utente e il recupero di dati avverrà in parallelo per cui ci sarà un'alta disponibilità di servizio. Il business model diciamo che è basato sul partnership con fornitori di servizi cloud, storage e revenue sharing. Io sono Giuseppe Padaré che attualmente ricopre il ruolo di director of engineering per un'azienda americana, Francesco Emmi che lavora con me nella stessa azienda e il professore Salvatore Riccobene come scientific advisor in quanto studia le problematiche da diversi anni. Con il grant di 25.000 euro che abbiamo vinto e per il quale ringraziamo Telecom Italia vogliamo realizzare un prototipo funzionante e testarlo con le cloud attuali, probabilmente in particolare quella di Telecom Italia. Grazie a tutti. Grazie a tutti.